Salve e rieccoci a un altro video della serie I Ching e Neidan. Il mio nome è Francesca e sono un'insegnante di Neidan, alchimia interna taoista. Come sempre faccio presente che questo video fa parte di una playlist, quindi di un corso anche, dove si insegnano appunto i principi del Neidan, alchimia interna taoista applicati all'I Ching e se non sapete che cosa sia un trigramma, come si fa a creare un esagramma, cos'è un esagramma interno e quali sono le energie associate nel Neidan ai trigrammi, forse è meglio che andate a vedervi prima i video iniziali di questa playlist dove spiego queste cose. E adesso continuiamo. Siamo arrivati all'esagramma numero 25 nella nostra storia della persona anche che vuole imparare la via del Tao, la via dell'immortalità in senso taoista e siamo arrivati a questo esagramma che ha come esagramma inferiore qui il tuono e il cielo e viene tradotto almeno in questa versione come l'innocenza, l'inaspettato. Allora potremmo dire un fulmine a ciel sereno, ok, ed effettivamente lo è. Che cosa succede? C'è una, possiamo vedere direttamente, come al solito leggiamo direttamente dai trigrammi, una forza creativa che ascende e tende verso il cielo, vuole tendere verso il cielo. Questa non è la prima volta che abbiamo visto questa intenzione, questa l'abbiamo vista in altri modi questa intenzione. In questo caso è proprio una forza creativa, la forza creativa è la forza dell'energia creativa sessuale che sale lungo il canale centrale e ascende al cielo, sono tutte e due energie che salgono, ok? E viene detto l'innocenza, non so quale sia il carattere cinese in realtà, non è perché è innocente, ma è perché è un desiderio puro, cioè questa è la mia meta e a questo vado. Segue questo esagramma, ha un esagramma che aveva sotto il tuono e sopra la terra, quindi queste tre linee tutte spezzate, che era il tempo del ritorno. Abbiamo detto che è coordinato proprio al sostizio d'inverno. Quando si comincia a, si era rotta una struttura prima con lo sgretotamento, tutte le strutture cambiano, abbiamo imparato anche il cambiamento in questo momento, in questa sequenza. E la rinascita, voglio rinascere verso dove mi ricordo i miei obiettivi, il cielo. Verso il cielo, e per questo è l'innocenza, cioè è un desiderio puro, è il desiderio di seguire la propria natura che viene dal cielo, ok? Come esagramma interno, abbiamo, diventa sopra il vento e sotto il monte. E di nuovo, eccolo qua, il monte, siamo nella sequenza dove il monte figura moltissime volte, tra il 15 e il 35, ed eccolo qui nel nostro esagramma interno, dove il vento, cioè questa è un'energia, l'energia penetrante che indica di andare a fondo nelle cose, nella caverna del monte, cioè andare a fondo, vai a fondo nelle tue strutture, vuoi arrivare verso il cielo? Sì, allora gli devi dare una struttura, andare a fondo, capirle queste strutture. Questo esagramma, ha come esagramma interno sotto l'acqua e sopra il fuoco, cioè il numero 64. Quando si entra nelle strutture, generalmente si trova poi il numero 64, che è, dopo il compimento, si riseparano l'energia di acqua e fuoco, in modo da trovare uno spazio dove possa crescere qualcos'altro. Ed ecco, questa è la nostra interpretazione taoista, coltivare l'energia del cielo, coltivare l'energia sessuale creativa, gin, che sale lungo il canale centrale, verso l'energia del cielo, che è poi nelle pratiche taoiste, spesso l'apertura di punti nel palazzo di cristallo, viene chiamato, e oltre. Vediamo le sentenze. La sentenza, l'innocenza sublime riuscita, benissimo. Propizia e perseveranza. Yang. Seguire il volere del cielo, ok? Quindi Yang. Se qualcuno non è retto, egli ha disgrazia. Cioè, se non sei in questo esagramma, non va particolarmente bene. E non è propizio intraprendere una cosa qualsiasi. Una cosa qualsiasi non significa, beh, che faccio, una qualsiasi cosa. No, una cosa qualsiasi in questo caso significa una cosa che non sia degna del cielo, diciamo così. È propizio intraprendere invece l'ascesa al cielo. Il cielo risponde anche, quando noi ci alziamo con l'energia creativa, dal cielo scende un'energia che aiuta, che dà poi forma. Il cielo è anche l'inaspettato. Perché l'inaspettato? Perché il cielo è il padre delle diecimila forme. Cioè, quando noi ci colleghiamo con l'energia del cielo, c'è anche l'energia del non dare limiti. dell'inaspettato, in questo lo chiamano inaspettato, dell'essere aperti alle infinite possibilità. È questa l'energia che ritorna alla nostra energia creativa. Ma quando ci sono infinite possibilità, noi dobbiamo andare a fondo in questo desiderio di infinite possibilità e crearne una struttura. La struttura è impermanente? Benissimo, sono strutture impermanente. Questa è la bellezza della vita. Allora, poi ci dice l'immagine, l'immagine qui ci dice, scusate la luce, vediamo un po'. Sotto il cielo passa il tuono, un tuono a ciel sereno. Tutte le cose acquistano lo stato naturale dell'innocenza. Di nuovo, io direi, in tutto è presente questo desiderio di ascesa al cielo e il cielo risponde. Così gli antichi re curavano e alimentavano, ricchi di virtù e in armonia con il tempo, tutti gli esseri. Il cielo, come il cielo appunto risponde, gli antichi re, che erano, il re era l'immagine di chi di chi incarna la presenza, la forza del cielo, e curavano e alimentavano, ricchi in virtù, curavano e alimentavano, questo viene dall'esagramma interno, cioè portano nella struttura. Alimentare viene dal 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 tuono sotto, ok? Quindi creare un'energia creativa e ricchi in virtù e in armonia col tempo, in virtù e in armonia col tempo viene dal fatto che si segue il cielo tutti gli esseri siamo, non siamo più, abbiamo già visto, abbiamo passato la parte dove eravamo solamente per noi, cioè stiamo imparando siamo già diventati in qualche modo degli insegnanti, volenti o nolenti perché le persone vedono e seguono chi ha luce o comunque chi splende ai loro occhi qualche volta non chi ha luce per mancanza di chiarezza interiore di chi segue e infatti ancora prima nella nostra seguenza avevamo imparato a seguire comunque ecco qua, non la facciamo troppo lunga andrò più a fondo nelle linee interne più tardi questa in altri in altri video questa questa esagramma appunto segue il tempo del ritorno proprio perché quando appunto si comincia a salire il cielo risponde grazie a tutti quanti come al solito se avete questioni, domande, eccetera potete metterle nei commenti al video rispondo volentieri e se volete potete guardare vi consiglio di guardare la descrizione del video così avete tutti i modi per contattarmi se questo è il vostro desiderio un abbraccio buone pratiche a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti